Buonasera a tutti, siamo in compagnia del mitico Mauro Nassi. Ciao Mauro, come stai? Bella intervista. Luisa, la cosa bella è che il fratello di un chitarrista che è stato... Il fratello cugino, cugino. Un cugino però è un cugino eccezionale, un grande chitarrista. Allora, con poco pure io, allora. Maurizio Rosa. Tu sei il secondo, va. Sei il secondo a Maurizio, un grande chitarrista, però io vorrei fare tutti quando insieme un applauso a Mauro Nassi, dai. Un saluto pure a Bruno, di vecchia America, nostro caro amico, Achille Capoccia, il commissario di Domenico Fontana, il grande Pasqualino Detto, il guardia giurassico, il guardiano. Diciamo che suoniamo la chitarra. Antonio Capitoli. Allora, un saluto anche ad Antonio Capitoli. Un applauso a Mauro Capitoli. Ciao. Ciao. Sono un uomo appena nato, innamorato, dei tuoi occhi color cielo, la mia vita ti regalo. Per amore di una donna, ricomincio a quarant'anni, senza occhi da guardare, senza mani da toccare. Una nave senza il mare, ero io prima di avere, la tua vita accanto a me.